Cosa sono gli investimenti socialmente responsabili? Sono prodotti di investimento che uniscono all'analisi finanziaria tradizionale i cosiddetti criteri extrafinanziari, ESG, sulla base dei quali vengono selezionate imprese che prestano maggiore attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance. Cosa vuol dire concretamente? Per Benpepari by BNL significa proprio puntare su quelle realtà economiche più solide e più virtuose che rispettano questi criteri, escludendo settori più controversi come ad esempio quello del tabacco. In questo modo possiamo dare un contributo concreto all'economia e alle sfide della nostra epoca. Investire nel futuro è una grande opportunità.